Droga a fiume, blitz dell'antimafia, 14 condanne per il gruppo Santa Panagia. 14 condanne per gli indagati accusati di associazione per delinquere dedita al narcotraffico. L'attività investigativa che ha consentito a luglio 2023 di disarticolare un'associazione criminale dedita al traffico di sostanze stufacenti che aveva la sua base logistica capologo del Doseo, in particolare a Santa Panagia, zona nord di Siracusa. Il Tribunale Etneo ha definitivamente messo 13 condanne a carico di Agostino Urso, 14 anni, indicato come gestore di questa organizzazione, difeso dall'Avvocato Junio Celesti, a fronte di una richiesta di 20 anni. Pasqualino Urso, 8 anni, Manuel Pesano e Carmela Falco, entrambi a 7 anni e 4 mesi, Salvatrice Agliano, 5 anni e 4 mesi, Shaila Tringali, 7 anni e 4 mesi, Marco Campisi, 10 anni e 4 mesi, Concetto Urso, 5 anni e 4 mesi, Giuseppe Bronte, 1 anno e 8 mesi, Calogero Benigno, 2 anni e 6 mesi e assolto per un capo di imputazione, Vincenzo Davi, 1 anno e 4 mesi, Emanuele Riani, 3 anni e 4 mesi, collaboratori di giustizia, Michael Berardi, 4 anni e 4 mesi, Alfredo Caruso, 2 anni e 6 mesi. L'indagine costituisce l'esito di una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Direzione Estettuale Antimafia e sviluppata dalla squadra mobile di Siracusa in un arco temporale che va dal novembre 2017 al settembre 2021. Il quadro probatorio, ricostruito in una fase del procedimento nel quale non è ancora instaurato il contraddittorio delle parti, ha permesso di porre in luce e disarticolare una fiorente redditizia piazza di spaccio ubicata a Siracusa in Viale Santa Panagia, collegata ad una vera e propria associazione per delinquere dedita al narcotraffico e all'accessione di sostanze stupofacenti. Le indagini hanno documentato come l'attività criminosa dell'organizzazione si sarebbe concretizzata nel traffico di varie tipologie di droga mediante l'utilizzo di pusher che ruotavano anche con turni notturni per garantire agli assuntori la possibilità di acquistare lo stupofacente in qualunque momento della giornata e la cui base logistica operativa veniva individuata all'interno dell'abitazione di uno dei principali indagati. Nel corso dell'indagine, al riscontro dell'ipotesi accusatoria e prospettata, sono stati sequestrati oltre 3 kg di cocaina e più di 28 kg di hashish unitamente a varie quantità di marijuana, pari a un mancato guadagno per il sodalizio criminale di oltre 1 milione di euro in troiti che sarebbero stati ripartiti fra i sodali e reinvestiti per i conseguenti affari illeciti del gruppo. L'indagine ha consentito di ricostruire l'organizzazione del gruppo criminale con un capo al suo vertice, quale promotore e direttore della consorteria che si avvaleva per la gestione del sodalizio dell'indispensabile ausilio del cugino, suo stretto collaboratore in posizione quasi paritaria, e di alcuni membri delle rispettive famiglie. Sono merse anche le figure del braccio destro del capo dell'organizzazione dedito alle attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente e di varie dette alla vendita al dettaglio che si occupavano di immetterla nel mercato della città di Siracusa attenendosi pedissecamente alle direttive impartite in ordine al prezzo e al quantitativo da movimentare a fronte di lauti compensi giornalieri o settimanali. Ai vari corrieri cittadini era affidato poi il compito di trasportare la sostanza stupefacente dai prefissati luoghi di custodia individuati all'interno della città di Siracusa alla base operativa dell'associazione. Il quadro probatorio assunto, oltre a permettere di ricostruire il modus operandi dei sodali, avrebbe fatto luce sui vari canali di approvvigionamento della droga consentendo di monitorare le trasferte del capo dell'organizzazione unitamente al suo braccio destro finalizzate alla contrattazione delle forniture di cocaina nell'Interland della provincia di Reggio Calabria. Inoltre è stato acclarato il coinvolgimento di fornitori di hashish sia del capoluogo palermitano che originari della città di Siracusa.